Matteo Salvini, che proposta avete presentato oggi? Asili nido pubblici e gratuiti per tutte le mamme. Vediamo se il governo Renzi usa le donne o aiuta le donne. Ci sono 200.000 bimbi in Italia che vanno all'asilo nido, nidi che costano fino a 700 euro al mese. Con 1.200.000.000 di euro presi tassando le banche, tassando il gioco d'azzardo e tassando i soldi che gli immigrati rimandano a casa loro, si manderebbero questi 200.000 bimbi a scuola, al nido gratuitamente in tutta Italia, aiutando in concreto le donne che sono anche mamme. Vediamo se Renzi usa le donne come pubblicità oppure vuole fare qualcosa di concreto. In queste ore in Parlamento si parla di legge elettorale. Qual è la posizione della Lega Nord? Fastidio, fastidio, fastidio perché le emergenze del Paese sono altre. Mi piace la definizione che ne ha dato Grammellini sulla stampa del Pastrochium. Qua rischiamo di passare dal Porcellum al Pastrochium, hanno già cambiato idea 18 volte. Speriamo che facciano in fretta perché le emergenze sono altre e se ci sono interventi che tutelano i territori, non i singoli partiti, ma che partecipano e che invogliano i cittadini a votare, sono i benvenuti. Detto questo inizia ad avere la nausea di un dibattito che non interessa veramente a nessuno al di fuori del palazzo. Dicono che non c'è più l'emendamento chiamato Salva Lega. Quello che salva qualcosa di qualcuno non mi piace. Il Salva Roma, il Salva Napoli, il Salva Lega. I partiti si salvano se hanno i voti. E quindi qua si tratta di coinvolgere i territori, non penalizzare qualche partito e non agevolarne solo uno o due, quelli grossi e quelli ricchi. Se ci sono emendamenti che aiutano la partecipazione popolare, sono i benvenuti. Noi non abbiamo bisogno di aiutini, non andiamo col cappello in mano da nessuno. Grazie. Grazie. Grazie.